La cittadella della pace di Rondine si è resa protagonista di un doppio appuntamento di promozione del dialogo e di conoscenza dei lavori portati avanti dalla realtà nata nel 1977 nel territorio aretino. Prima la visita dell'ambasciatore di Israele presso la Santa Sede che ha spiegato ai ragazzi l'andamento delle relazioni tra i due stati, il dialogo tra le due religioni monoteiste e il ruolo dei giovani nel favorire percorsi di sviluppo della pace e della fratellanza tra i popoli. Poi quella del vice ministro agli affari esteri Lapo Pistelli che ha voluto vedere da vicino la cittadella e capire come investire sui giovani per il futuro della sponda sud del Mediterraneo, un'altra zona martoriata dal conflitto e dalle guerre civili in seguito agli avvenimenti della primavera araba. Tra i temi al centro dell'incontro con l'ambasciatore quello della possibile firma degli accordi tra Santa Sede e Israele, tra i nodi simbolici quello della restituzione del Cenacolo. Israele lo controlla dal 1948 ma con l'intesa potrebbe ridare alla Chiesa Cattolica e quindi ai Francescani della custodia l'uso e non la proprietà dell'edificio per il culto, aprendolo a tutte le confessioni cristiane. Eccellenza, venti anni fa prendevano il via i lavori della Commissione per i rapporti tra Santa Sede e Israele. Si potrà raggiungere già una firma di questi accordi a dicembre? C'è ragione di essere ottimisti perché abbiamo fatto molti progressi negli ultimi tempi, quindi a breve saranno conclusi i negoziati con un raggiungimento dell'accordo. C'è ancora qualche aspetto da chiarire, un po' di lavoro da fare, ma nel breve futuro ci sarà sicuramente la conclusione dei negoziati. Sugli aspetti da chiarire per quanto riguarda i negoziati, per esempio anche la questione del Cenacolo, su quello siamo vicini anche a trovare un accordo? Non voglio scendere nei dettagli dei diversi aspetti trattati nei negoziati, però posso dire che gli ultimi temi rimasti, due o tre problemi che sono ancora in fase di negoziazione, sono problemi pratici e non di principio. Quindi possiamo dire che nei prossimi round di negoziato, già all'inizio del 2014, c'è ragione di essere ottimisti che l'accordo sarà raggiunto. Lei ha incontrato anche per tre volte Papa Francesco. Quanto questo Papa può aiutare effettivamente anche nel dialogo in Terra Santa? Ho avuto il privilegio di incontrare Sua Santità Papa Francesco per ben tre volte, anche se molto brevemente. Non dimenticherò mai questi incontri in cui ho appreso il suo messaggio di calore verso l'altro, il suo messaggio per il dialogo interreligioso, il suo messaggio contro l'antisemitismo. Speriamo di riuscire a organizzare il viaggio di Sua Santità in Israele, dove lo accoglieremo a braccia aperte e con calore indipendentemente delle religioni dei nostri cittadini. È venuto qui a Rondine per parlare di giovani, di come i giovani possono favorire il dialogo in una terra così presa dal conflitto. Penso che i giovani abbiano oggi un ruolo molto importante nella risoluzione dei conflitti per quanto riguarda il contatto umano, che è quello che aiuta a combattere i pregiudizi e gli stereotipi. E qui a Rondine posso congratularmi con il fondatore Franco Vaccari e tutta l'associazione perché incentivano questo tipo di contatto umano tra i diversi nemici che così possono lavorare insieme per il superamento dei conflitti. Un'ultima domanda riguarda ancora il dialogo con la Santa Sede. Siamo a un punto in cui questo dialogo può aiutare anche per la pace in Terra Santa. Certamente ogni tipo di dialogo, ogni accordo che riusciamo a concludere tra Israele e un'altra parte è positiva verso la conclusione del conflitto. Per quanto riguarda i negoziati con la Santa Sede, stiamo ormai lavorando da diversi anni di negoziato. C'è chi dice che i negoziati si sono protratti per troppo tempo, altri fanno notare che 17 anni di negoziato sono molto pochi in 2000 anni di storia e quindi possiamo solo essere ottimisti e rallegrarci del prossimo raggiungimento di un accordo che conclude il negoziato. Ancora ripetiamo che le relazioni tra Israele e Santa Sede sono caratterizzate da una grande fiducia reciproca e quindi ci avviciniamo ai vent'anni dalla firma degli accordi fondamentali con grande ottimismo verso la conclusione di un accordo. Una visita che è stata per diversi aspetti proficua secondo il presidente di Rondine, Franco Vaccari. Mi ha colpito l'ottimismo dell'ambasciatore, quindi è un cittadino onorario di Rondine dove si coltivia l'ottimismo. D'altra parte scommettere sui giovani vuol dire credere davvero che il futuro sia possibile perché le nuove generazioni apriranno e vedranno quello che noi non riusciamo a vedere. È sempre stata così la storia. La presenza dell'ambasciatore a Rondine dà un grande onore a Rondine e rafforza questi rapporti di grande simpatia e di amicizia con Israele. Un altro appuntamento fondamentale è stato quello con l'onorevole Lapo Pistelli dove al centro del dibattito è stata la questione dei paesi della sponda sud del Mediterraneo. Il vice ministro agli affari esteri non ha mancato di sottolineare il suo interesse e il suo riscontro positivo per il lavoro realizzato dalla Cittadella della Pace di Rondine. Ho avuto una piacevole conferma della straordinaria esperienza già fatta a Roma perché bisogna venirci per apprezzare fino in fondo il lavoro che qui si fa a questa cittadella che fa avvaccare insieme agli altri e bisogna trovare il tempo, finalmente l'ho trovato di trascorrere un pranzo lungo con questi ragazzi facendoli parlare delle loro storie, delle loro ambizioni delle zone di conflitto da cui vengono e di cosa hanno scoperto qui. Quindi è un'esperienza pilota di straordinario valore non soltanto per i ragazzi che vi partecipano ma come dire per il messaggio che manda molto molto lontano dai confini italiani. Sul futuro dei paesi della primavera araba afferma È chiaro che stiamo attraversando adesso una transizione molto complicata in alcuni paesi più in altri meno ma comunque complicata e del resto la nostra storia antica ci dimostra che non c'è rivoluzione che possa stabilizzarsi nel breve tempo, è soltanto una nostra illusione il che però non ci deve portare a chiudere le porte e a rassegnarsi a una qualche forma di scetticismo ma è proprio investendo se si vuole sulle giovani generazioni e sulle nuove leadership politiche che noi possiamo aiutare questi paesi a crescere col nostro aiuto ma sulle loro gambe e quindi per quello che potremmo fare anche costruire attraverso esperienze del genere i pezzi di futura classe dirigente è un piccolo modo per aiutare questi paesi ad avere un futuro meno angosciante di quello da cui vengono. Poi lancia un messaggio ai ragazzi dello studentato internazionale. Non perdere il sorriso e la scoperta dell'altro che qui stanno facendo e di sapere quindi essere, se mi si permette il termine evangelico, lievito quando torneranno alla fine del loro percorso di studio nei loro paesi perché loro sono come dire delle prove di seme ma poi il seme va piantato in terra e deve produrre una pianta e un frutto e loro sono dei potenziali straordinari semi possono venire fuori delle cose grandiose nei loro paesi di origine e quindi se riescono a portare a casa questo messaggio l'esperienza di Rondine diventa un completo successo.